Presentiamo il deambulatore Torpro Viva con antibracchiali. Questa versione è una versione che permette al paziente attraverso gli antibracchiali di avere una maggiore stabilizzazione del tronco durante la fase del cammino. Gli antibracchiali hanno le manopole regolabili in profondità, questo per permettere di raggiungere nel miglior modo possibile la leva del freno. Sono regolabili anche in altezza. Sono dotate di una fascia stabilizzante agli antibracchiali che permette di irrigidire durante la fase di cammino tutto il telaio del deambulatore e una volta sganciate di facilitare la chiusura, come tutti i deambulatori pieghevoli della linea Torpro con una mano. Torpro Viva 7 con gli antibracchiali è dotato di blocco di chiusura. Il telaio rimane comunque leggero e facilmente caricabile in automobile. Inoltre il deambulatore è dotato di una tela di seduta traforata che permette all'utente di visualizzare lo schema del passo durante il cammino. È dotato altresì in un cestino portoggetti e come tutti i deambulatori della linea Torpro ha 7 anni di garanzia. Grazie. Grazie.